Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Arrestato un 22enne a Lucrezia di Cartoceto allestiva nel garage un vero e proprio banchetto per assaggi di marijuana Ladri ancora in azione a Fano ad essere presa di mira un esercente che è stata raggirata e derubata Maltempo in arrivo nelle Marche eventi fortissimi soffieranno lungo la costa mentre la neve farà la sua comparsa sulle cime del Catria e del Nerone Buonasera e benvenuti dalla redazione di Occhio alla Notizia in apertura la cronaca un 22enne residente a Lucrezia ma di origini campane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti nel suo garage aveva allestito un angolo per la degustazione vediamo un garage come base per il confezionamento e spaccio di sostanze stupefacenti con tanto di degustazione della merce messa in vendita questa era la singola ridea venuta ad un 22enne disoccupato di Lucrezia di Cartoceto già noto alle forze dell'ordine per reati simili stavolta aveva ben pensato di sistemare il banchetto nel garage nel semi interrato dello stabile in cui abita è lì che accoglieva i giovani acquirenti del posto a cui offriva prima dell'acquisto un assaggio della marijuana in vendita la notizia però è giunta ai carabiniere di Saltara che hanno iniziato a monitorare lo strano vievai di ragazzi nelle ore serali nell'abitazione di una loro vecchia conoscenza osservate le abitudini è stato predisposto uno specifico servizio e all'ennesimo cliente controllato con la dose appena acquistata gli agenti hanno fatto irruzione all'interno lì finalmente hanno capito perché si intrattenevano così a lungo infatti vi erano tre persone che stavano tranquillamente assaggiando le diverse qualità di stupefacente nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 110 grammi di marijuana un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento e il padrone di casa è stato arrestato e condotto in carcere per spaccio mentre gli assuntori di cui uno minorenne sono stati segnalati alla prefettura Un imprenditore di 52 anni è residente a Fossombrone ma di origini campane è stato denunciato in stato di libertà per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti l'uomo infatti circolava utilizzando un dispositivo inserito nei suoi autocarri in grado di alterare il crono tachigrafo digitale facendo risultare il mezzo fermo mentre in realtà era in viaggio senza rispettare periodi di sosta e di riposo previsti dalla legge questo oltre a comportare un aumento delle probabilità di provocare incidenti faceva ottenere al 52enne un maggiore guadagno a discapito dei trasportatori in regola all'imprenditore è stata sospesa la patente di guida e applicata una sanzione amministrativa di circa 1600 euro Un tavolo tecnico istituito in prefettura nei giorni scorsi ha fatto un bilancio dei risultati ottenuti dalle forze di polizia in merito all'attività di prevenzione di contrasto al fenomeno di abusivismo commerciale e di contraffazione dal mese di agosto al 15 di ottobre sono stati eseguiti 105 sequestri amministrativi e 24 penali oltre 12.000 sono gli oggetti sequestrati tra capi di abbigliamento e accessori vari per un valore complessivo della merce di circa 70.500 euro questi risultati sono stati ottenuti grazie anche all'associazione di categoria e ai cittadini che hanno segnalato i casi di irregolarità ancora furti a Fano si fingono clienti e le rubano il portafoglio dalla borsa è accaduto ad una titolare di un negozio di abbigliamento nel portafogli c'erano 800 euro per fare dei pagamenti e la borsa era come sempre sotto la cassa mercoledì scorso intorno alle ore 18 due signore italiane di bell'aspetto e senza accenti particolari entrano e chiedono di vedere della merce non pensi mai che in realtà non sono i capi di abbigliamento il loro interesse ma il portafogli due donne una giovane e una bella ragazza alta con gli occhi chiari e un'altra più grande non so se poteva essere anche la mamma sono entrate dicendo che volevano acquistare una sottana da regalare per una signora a Milano la tecnica è ben conosciuta dalla polizia come gli hanno spiegato gli agenti che questa mattina hanno raccolto la denuncia una ti distrae fingendo di voler comprare qualcosa e ti porta nel punto più lontano dalla cassa e impedendoti la visuale si è messa così parlando forte questa oh bella questa oh bella questa ma mi faccia vedere questa mi distraeva l'altra gironzola per il negozio e appena può prende il bottino in un altro negozio stesso metodo appena entrata la commessa non ha fatto in tempo a nasconderla a mettere la borsa via l'hanno distratta che volevano una cosa e poi l'altra sempre quella più grande che potrebbe essere anche la madre ha rubato il portafoglio la protezione civile regionale ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse valido da stanotte fino alla mezzanotte di domani sono previste forti raffiche di vento e mare agitato nelle marche con possibilità di mareggiate lungo la costa centro settentrionale il vento potrebbe arrivare ad un'intensità di burrasca forte il mare sarà molto mosso nelle ore centrali della giornata con onde alte fino a 3 metri ma per saperne di più siamo in collegamento telefonico con Francesco Cangiotti di geometeo.it buonasera Francesco buonasera dunque è attesa una forte burrasca e addirittura anche la neve sul Catria e sul Nerone Sì, diciamo che nelle prossime ore la discesa di una saccatura dal nord Europa che in questo momento si sta avvicinando le Alpi farà il suo ingresso nella nostra penisola determinando appunto un temporaneo brusco cambiamento del tempo avremo quindi dalle prime ore del mattino di domani una nuvolosità diffusa su gran parte del nostro territorio che darà luogo anche a rovesci sparsi specie sulla costa ma che nel corso della mattinata tenderanno poi a spostarsi anche verso le aree interne appenniniche come diceva appunto questa perturbazione sarà accompagnata a forti raffiche di vento che nella mattinata potranno raggiungere anche gli 80 e i 100 km orari proprio sul lungolitorale marchigiano quindi determinando anche forti burrasche l'aria setta oltre appunto alla fenomenologia che ho appena accennato determinerà anche un brusco calo delle temperature anche di 7-8 gradi rispetto ai valori attuali e appunto proprio questo calo termico potrà favorire nel corso della mattinata anche la possibilità dei primi fiocchi di neve sui nostri monti marchigiani a partire dai 1200-1400 metri grazie a Francesco Cangiotti di Geometeo.it ed ora cambiamo argomento parliamo di edilizia residenziale dal 1 gennaio 2014 al 1 ottobre sono state 607 le pratiche presentate allo sportello unico per l'attività edilizia di Fano di queste 116 sono relative al piano casa 109 le ristrutturazioni e oltre 300 quelle di straordinaria manutenzione si tratta di un numero ancora ridotto di interventi che denuncia lo stato di crisi in cui versa il settore per la CNA di Fano ci sono molte varianti al piano regolatore che attendono di essere sbloccate e per affrontare il tema ha organizzato un seminario tecnico con le imprese interessate e gli amministratori della città bucche pericolose e grandi come voragini dello stato in cui versa il parcheggio di via risorgimento a Fano a pochi passi dal commissariato di polizia ce ne siamo occupati più volte ma a distanza di tempo la situazione è solo peggiorata vediamo servizio di Lino Balessa passa il tempo e la salute del parcheggio in terra di via risorgimento è sempre la stessa grave anzi in stato comatoso potremmo dire sì perché oltre ad essere aumentate le buche quelle che c'erano sono diventati dei piccoli crateri e alcuni si sono evoluti nella forma superiore un laghetto artificiale senta lei è appena parcheggiato adesso sta andando via com'è la situazione qui di queste buche? disastrosa anche prima sono arrivata ho dato una botta sotto ho avuto paura di rompere la macchina questo parcheggio è proprio un disastro parcheggia spesso qui? eh no non sempre però insomma capita di parcheggiare ma se posso evitare meglio la prima volta che viene qui però subito le buche le hanno dato il benvenuto come no sono molto visibili e anche abbastanza frequenti e dannose caspita infatti vado via subito il disagio è notevole per chi tenta di addentrarsi all'interno della superficie la profondità delle buche costringe a veri e propri fuori strada con normali vetture sobbalzando a destra e a sinistra va meglio se si ha un SUV ma la sensazione mare forza 4 rimane voi avete il negozio adiacente al parcheggio qualcuno dei vostri clienti si è lamentato per questa situazione? molti clienti da diverso tempo perché ci sono un sacco di buche e quindi non è possibile parcheggiare però del resto qui molti lavori non ci sono molti uffici per cui hanno esigenza di parcheggiare nessuno interviene il comune penso che dica che è dei ex proprietari costruttori qua che era il loro compito loro non si è visto più nessuno per cui non sappiamo a chi rivolgerci la situazione quindi come avete visto dalle immagini con l'andare del tempo è peggiorata le buche si sono ingrandite e approfondite un peccato perché questa zona questo parcheggio potrebbe essere da servizio al centro che è poco distante da qua e creare rapporti tra istituzioni comunitarie e amministrazioni locali è l'obiettivo del ciclo di incontri organizzato dall'Assemblea Legislativa delle Marche i fondi strutturali e la macro regione adriatico ionica con le opportunità offerte alle amministrazioni locali questi i temi trattati in questa quarta edizione della scuola di alta formazione per l'Europa rivolta alla nuova classe dirigente pubblica e promossa dall'Assemblea Legislativa delle Marche è orientata a formare ed informare i giovani amministratori pubblici sulla natura dei rapporti tra istituzioni comunitarie e amministrazioni locali indietro non si torna afferma Vittoriano Solazzi c'è bisogno sempre più di integrazione e di Europa se vogliamo uscire dalla crisi sicuramente è un bel traguardo quando siamo partiti avevamo l'obiettivo chiaro ma probabilmente avevamo anche il sospetto che questa cosa potesse non riuscire come ci auguravamo invece è stato crescente il consenso su questa scuola di alta formazione europea le tre edizioni precedenti sono andate molto bene e credo che anche quella di quest'anno considerato il numero degli amministratori dei giovani amministratori che si sono iscritti non potrà che essere in coerenza con le edizioni precedenti Vista la natura degli argomenti e le necessità ormai imprescindibili di acquisire le capacità necessarie per intercettare i fondi che l'Europa mette a disposizione in questa edizione si è scelto di indirizzare la formazione solo ai giovani amministratori marchigiani 80 gli iscritti in rappresentanza dei 51 comuni delle 5 province per il comune di Fano era presente l'assessore Caterina Delbianco In realtà vorrei precisare che i fondi europei non risolvono i problemi del comune i fondi europei arrivano quando un comune riesce a progettare a dimostrare all'Europa con poche parole sintetiche che cosa vuole fare quindi queste sono occasioni per noi giovani entrati adesso in politica per cominciare a parlare con questo linguaggio Mettere in campo operazioni tali da coordinare i comuni verso progetti che possono intercettare fondi che sono l'unica vera risorsa di prospettiva per questa regione penso che sia molto 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 utile Ed ora passiamo allo sport all'Alma Juventus Fano che domenica scorsa ha vinto 2-1 fuori casa contro il Termoli la telecronaca di Sergio Catalani Borrelli intanto 1-2 con Sivilla Borrelli, Borrelli, tocca ancora verso Sivilla posizione della sinistra, Sivilla mette al centro Nodare, anzi Gucci, anticipato parte Borrelli, parabola interessante, c'è il gol il gol del Fano il gol dell'Alma Juventus Fano Andrea torta 1-0 il gol al dodicesimo minuto ora vedremo se Borrelli col destro farà qualcosa di importante Nodare di testa eh sì, eh sì, il gol il 2-0 altra parabola interessante di Borrelli l'abbiamo chiamata questa marcatura dell'Alma letto molto bene attenzione però c'è il Termoli con il gol con il gol di di Rito Santoro va via sulla destra attenzione minuto 20 e questa sera torna il programma dopo cena condotto da Lino Balestra ospite nei nostri divani rossi la dottoressa Giada Muscatelli biologa nutrizionista poi trasmetteremo integralmente la partita dell'Alma Juventus Fano buon proseguimento di serata arrivederci buon proseguimento di serata grazie a tutti